Passiamo alla quarta, il premio Etang è un miglio per tre anni, sono in otto al Viano ancora numero tre, Veloce Bebo, Vigo di Casei, Evelio Storti, Vociferoget, Giuseppe Cirillo, Vissrod, Massimo Rodolfo, Via Colvento Tor, Giovanni Conti, Viso Petu, Cristiano Pepponi, Biscec, Massimiliano Staffieri in seconda fila, Vanu, Antonio Simioli, Visconde Buti, Marco Minucci, e la macchina che stacca è la rottura di Viso Petu, sbaglia anche Via Colvento Tor, e allora lungo la corda Vigo di Casei con allargo Vocifero e Visrod, desiste Visrod, mentre Vocifero insiste su Vigo di Casei, più indietro Vanu e Viscic, è terminata la prima curva e il lancio è andato via in quindici, i cavalli si presentano al passaggio di fronte alle tribune, con Vocifero che si ripresenta su Vigo di Casei e sfila. Poi Visrod davanti a Vanu, Viscic, primi 600 metri coperti in 46 e mezzo, anche qualcosina meno, con Vocifero in vantaggio, di rincalzo Vigo di Casei, poi Visrod, Vanu che ha mosso a largo, in corda Viscic e il passaggio a metà gara per il battistrada Vocifero Jet è completato in 1 e 3. Si avvicina a largo Vanu, che scavalca Vigo di Casei che è stanco, intanto Vocifero al comando, completa il primo chilometro in 1,18 e 2, Vanu che lo fila. Poi Visrod che prova ad insinuarsi all'interno di Vanu, con l'approssimarsi della curva. Mancano 400 metri alla conclusione, Vocifero al comando, Vanu che prova l'aggancio all'esterno di dentro, Visrod, poi Vissec, Vigo, Viscum debutì all'esterno, ma gli ultimi due sono abbastanza indietro. La retta di arrivo, Vocifero in vantaggio, Vanu che prova l'aggancio, Vocifero che reagisce, poi Visrod lungo lo steccato, Vocifero va via ancora bene, Vocifero Jet prosegue al comando, Vocifero Jet per la gioia di Giuseppe Cirillo, Visrod rimonta per il secondo Vanu. Il totale 2,4, quindi la media è intorno all'1,17 e 3, 1 e 1 gli ultimi 800 metri, Vocifero Jet, Giuseppe Cirillo, Raffaele Forino e i colori sempre di Giuseppe Cirillo. Eccolo qua, Vocifero che prosegue al comando, un paio di richiami per tenerlo sveglio fino in fondo, andare a vincere facile, Vocifero Jet al primo posto e poi andiamo avanti con il secondo posto di Visrod che rimonta Vanu. La quota per Vocifero Jet è 2,85.